Buongiorno ragazzi, oggi sveglia prestissimo Alle 4 di mattina ho fatto il check out dall'hotel perché mi sto per spostare in un altro hotel Sto raggiungendo Alwakra che è una città sotto Doha dove mi unirò al capitano Garuda che è il proprietario di un charter che mi porterà a pescare in mare aperto con la tecnica del jigging C'è la possibilità veramente di pescare di tutto, molto dipenderà dalle condizioni del mare e dalla distanza, dalla riva a cui pescheremo Quindi più andremo in là probabilmente più pescheremo pesci di profondità e più staremo verso la costa e più ci saranno invece i pesci predatori appunto come i kingfish o i barracuda Vado lì, saliamo sulla barca e ci vediamo direttamente in navigazione Ciao Sono eccitatissimo Ciao Oh! 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 La luz! La luz! Ah, ok! Relax! It's far! Far? Yeah, it's far, because I was casting Very far Oh! He's there! Mama! It's a mama? It's a lady fish? No! Queen! King! Queen fish! Oh! cazzo ragazzi Oh! Che figata! So cool! Oh! What the time everybody? Ah! Questa è lì Ok, ok, ok Ok, ok, stai passando Ok, ok, stai passando Ok, stai passando Da l'inizio, non puoi pulire Non fai Ok, io solo Dopodiché la fai, stai passando Ok, ok Ragazzi, che cazzo di pescione Quingfish Quingfish? Si Oh! Bellissimo 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 Posso provare Posso provare Posso provare Con la fai Sembra Ok, ok Si Si, è possibile Non problemi Puoi prendere la fai Non problemi Vuoi prendere la linea? Si Ok, ok Rai e queen Vuoi metter Si 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 Underwater Si 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 Carri 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 Ragazzi Che figata Oh Caccia Un'altra Can you take my phone for a photo? Ok Ok Si Ok Thank you Ok, ok Thank you Thank you Un barracuda ha tagliato il finale al ragazzo a fianco a me e di là ne hanno preso uno piccolino 來 Paré Acuna Are Et Part Oh! Fischoni! Fischoni! Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Che cos'è? Che cos'è? Che... Ui! Che cos'è? Small barracuda! Small barracuda! Yes! Thank you! Small barracuda! Who wants it? Yeah, put it! Ah, you put it! Speciale no! Very small one! No, it's a... Oh! Put it! Yes! Very nice! You want it? No! 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 provando a pescare a fondo visto che l'attività sia un po fermata allora ho fatto una montatura a fondo giusto per vedere se riesco a prendere qualcosa. Pesce chissà cos'è Sì sì, è lì. Ma è solo a cattolato. Sono quieto. Ecco la. Sherry, 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 Sherry Sherry, oh! Perfect hook Pesce di fondale Dormi Il pese di un piccolo Si, il pese di sinistra In mezzo Proprio da nulle Si, il piccolo è un piccolo Ah wow molto buono e costa 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 quindi dovremmo prendere 10 kg 10 kg ok ma cosa è il nome di questo? sultan buono 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 piccolo molto piccolo ah barracuda un altro piccolo barracuda eccolo qui barracudino ciao ti odio ti odio non è assicurato non è assicurato non è assicurato un pesce qui c'è contento almeno c'è c'è il lunch si oh ah fuck what? oh 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 ma 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 be small stop fighting no fuck no i lost it Oh, no, ancora! Ah no, è una quina! Buongiorno! 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 È qui, certo? Oh, c'è qualcosa in mezzo! Oh, due! Guarda, guarda! Fa una sini con solo, look a'k одна! Eh, non, non, non! Qu'è? oh cormoran ok dice cormoran o no ce so o no Mamma, ma it's ok. Ragazzi, che giornata pazzesca. Sono distrutto fisicamente, demolito, ma sono anche di un felice pazzesco. È stata una giornata bellissima. Intanto la compagnia è stata figa perché tutti questi filippini, una comunità sostanzialmente di filippini, tutti amici che si trovano, fanno queste robe a un prezzo tra l'altro super abbordabile perché normalmente un charter di pesca costa qua sui 600 euro al giorno, questo costa 60 euro al giorno, questo è un decimo. 12 ore di pesca, mi hanno offerto un casino di cibo loro, abbiamo riso, mangiato l'anguria, bevuto, cioè io praticamente mi sono portato delle robe da occidentale del cacchio, tipo il toast e l'oro, cazzo, avevano le cose fritte a pasta, quindi bellissimo. E poi una quantità di catture e una qualità delle catture, perché alla fine, avrete visto nel video, cioè veramente imparagonabile con quello che si potrebbe trovare in Italia. E quindi niente, ragazzi, me ne vado a casa a dormire per sei anni, anzi no, perché domani lavoro. Spero vi sia piaciuto il video e ci vediamo dove ci acqua. Ciao! Ciao!